Ciao a tutti, eccoci qua per una nuova puntata di Gossip Goal da Emanuele Agliacuinta. Questa sera ci sarà la partita Paris Saint Germain-Juventus a proposito del club francese. L'attaccante argentino, ex dell'Inter, Mauro Icardi, durante il calciomercato non ha avuto grosse proposte. Si sa che non è più nel progetto francese e quindi dovrà cambiare squadra prima o poi. Le ultime voci di corridoio dicono che il Galatasaray sarebbe interessato. Ho letto delle dichiarazioni di sua moglie, Vanda Nara, imprenditrice ormai con grande successo, soprattutto negli Stati Uniti. Ha inaugurato diversi negozi di cosmetica, soprattutto a Miami. Ha affermato che non le dispiacerebbe ritrovare comunque suo marito all'Inter Miami. E quindi chi lo sa se la famiglia Icardi non avrà futuro negli Stati Uniti e quindi in America. E poi parliamo di un'altra coppia che è scoppiata però, ahimè, Francesco Totti e Hilary Blasi. Le ultime news dicono appunto che hanno deciso di separarsi. Ovviamente tramite comunicati stampa hanno dichiarato anche tramite social che la loro storia d'amore dopo 20 anni e ben tre figli è arrivata agli sgoccioli. Però una news che comunque farà magari gioire alcuni di voi, per come sono anch'io romantici, che sperano sempre che ci sia una riconciliazione, hanno deciso di vivere, anche se separatamente, nella stessa casa all'Euro a Roma. Anche perché quella villa non andrà ovviamente venduta e sarà poi in futuro divisa ai tre figli. Un bacione grande e alla prossima!